Buonasera, buonasera, bentornati. Su TCS, Telecosta, Smeralda, il magazine, manca poco. A Natale cominciamo con i primi due servizi che delineano un po' delle tendenze nuove, soprattutto per questo Natale 23. Allora cominciamo dalla tavola dove ai sardi piace stare in tanti. A Natale, a casa con i tuoi, mai detto fu più azzeccato per la storia che stiamo per raccontare e raccontarvi. Ai tuoi, inteso come parenti estretti e affini. Vi ricordate affini? Ma questa è un'altra storia, non natalizia. Si aggiungono gli amici, fidanzate e già a tavola a Natale i sardi. Preferiscono stare in tanti, almeno in dieci. Questa curiosa e intrigante classifica social, social inteso come sociale e non telefonino o altri media di comunicazione, viene certificata dalla Coldiretti che decreta in corona il popolo dell'isola e il più sociale d'Italia, anche se è la prima posizione in classifica da dividere con i siciliani. Altra curiosità, aggiungiamo la spesa. Qui per nulla curiosa, per i pranzi e cene si spenderà il 10% in più rispetto al Natale 2022. Tra le pieghe dello studio si può notare che il Natale 2023 vede una media nazionale di quasi 8 commensali e quanto alla scelta del luogo dove trascorrere il 24 e il 25 con parenti e amici, non sembra esserci dubbi. L'88% degli italiani trascorrerà vigilia e Natale a casa. Chi nella propria abitazione, 54%, e chi da parenti e amici, il 34%. Una minoranza del 6% sceglierà invece un ristorante o un agriturismo, ma c'è anche un debole 6% che deciderà all'ultimo momento. Capitolo menù, alla vigilia sarà servito soprattutto il pesce, mentre a Natale prevale la carne, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo e pizze rustiche. Capitolo regali, sempre a tavola però, spiega il sondaggio. Troveranno spazio quei regali enogastronomici tra i più gettonati per la spinta verso doni utili, ma anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai-date di ricette personali per sedate speciali. Infine, il capitolo costico. Diretti evidenzia come gli italiani quest'anno torneranno a spendere per il Natale a tavola una media di 115 euro a famiglia e 10% in più rispetto alle feste del 2022, facendo segnare un ritorno ai livelli pre-pandemia, dopo tre anni segnati da guerra e Covid e ai noi di guerra o di guerre ce ne sono ancora. In sintesi, il calo dell'inflazione per lunghi mesi, spauracchio delle famiglie, ha avuto effetti positivi, sottolinea col diretti, anche sulle scelte dei pasti natalizi, tanto che la maggioranza degli italiani, il 31%, spenderà tra i 50 e i 100 euro, mentre un altro 29% si spingerà fino a 200 euro, e il 10% arriverà a 300 euro, il 4% anche oltre. Solo un 7% conterà il budget sotto i 30 euro, mentre il 13% lo si manterrà tra i 30 e i 50 euro, mentre un 6% preferisce non rispondere. E allora che Natale a tavola sia in tanti però. Ancora Natale è un aggettivo che si appiccica bene a queste feste, è essenziale. La Sardegna ama le tradizioni e il Natale, e per i sardi, come peraltro per gran parte degli italiani, è un modo per ritrovarsi a tavola. I menù della tradizione per le coppie più giovani spesso sono soppiantati da altre ricette, magari frutto di mescolanze, di culture e di sapori, ricette fusion, ed ecco che nell'impasto entra l'avocado, e la pasta assume il colore scuro tipico dei prodotti integrali. Qualcuno mangia il seitan e altri una torta di verdure al posto della carne d'agnello o maialetto, menù che hanno un denominatore comune, il risparmio. Almeno per la maggior parte degli italiani, infatti, anche quest'anno, forse più degli anni passati, si sente il peso dell'inflazione. Si è arrivati al Natale in apnea, con tanti conti da pagare, e uno stipendio, compresa la tredicesima, che serve più a compensare i costi sostenuti per le bollette, le tasse e le imposte. Secondo FederConsumatori, il cenone di Natale ci costerà ben il 3,38% in più rispetto allo scorso anno, 5,1% in più per il capodanno. Dall'indagine effettuata dall'Osservatorio nazionale FederConsumatori, è infatti emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della vigilia di Natale presso la propria abitazione o in quella di parenti e amici. Circa il 31,9% prenoterà almeno uno tra il pranzo di Natale o la vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all'organizzazione di eventi. Come di consueto, l'Osservatorio nazionale FederConsumatori ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menù, uno standard e uno più economico. La spesa media per il menù classico della cena di Natale sarà di 42,3 euro a persona, con un incremento del 3,98% rispetto allo scorso anno, mentre per il menù low cost la cifra si attesterà a quota 24,08 a persona, circa il 43% in meno rispetto al menù classico, con un aumento del 10,46% rispetto al 2022. Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menù classico costerà 52,13 euro a persona. L'opzione più economica invece implicherà una spesa inferiore del 41% rispetto al menù classico, con una spesa di 30,89 euro a testa. Gli aumenti più significativi riguardano il pesce, la frutta e i dolci. I rincari incideranno anche sulla composizione del menù, che in molti rivedranno alla luce del budget ridotto. Per risparmiare su tali costi, Feder Consumatori consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. E come ogni magazine che si rispetti c'è una storia, non è di Natale ma riguarda la bellezza. Ritorna a nuova vita il chiostro della chiesa e convento di San Domenico a Cagliari risalente al periodo gotico-aragonese. Costruito a spese dei sovrani d'Aragona nel XV secolo, il chiostro e la cripta adiacente rappresentano quanto è sopravvissuto del complesso monumentale distrutto dai bombardamenti del 1943. Una serie di interventi negli anni già a partire dalla fine dell'Ottocento hanno preservato alcune strutture originarie, ma non hanno risparmiato l'antica chiesa, compresa una volta 17 chiavi considerata nel suo genere la più grande del Mediterraneo. Oggi si completa una parte del restauro del chiostro di San Domenico, un restauro esemplare che riesce ad offrirci in maniera chiara e nitida l'immagine di uno dei siti più importanti per l'architettura gotica in Sardegna. E se oggi i cagliaritani possono riappropriarsi di questo significativo esempio di architettura medievale nel cuore della città, il merito è certamente dei lavori di restauro che in particolare in questa seconda fase completata in soli sei mesi hanno interessato sei campate del braccio ovest. Noi sappiamo che il chiostro è costituito da due coppie di bracci, due appunto il braccio occidentale e quello meridionale di impianto gotico e i due bracci invece, quello est e quello nord, sono di impronta rinascimentale. Quindi noi nell'ultimo intervento siamo intervenuti sul braccio ovest e in particolare sul restauro delle superfici lapide realizzate in pietra cantone che come sappiamo è una pietra molto fragile. in passato il precedente intervento, quello sul braccio ovest, che viene chiamato l'otto-uno, si è intervenuti invece in particolare sulla statica, cioè sulla tenuta dei pilastri che avevano una sezione molto ridotta, molto compromessa e quindi si è scelto di intervenire prima sul braccio ovest proprio per una questione di urgenza nell'intervento. Un restauro esemplare che ha restituito, agendo sulla pietra cantone, un'immagine nitida e chiara delle lavorazioni presenti su una delle zone più antiche del chiostro e che racchiude gli stilemi dell'architettura gotica così da apprezzare ancora di più gli elementi caratterizzanti dell'intero complesso di San Domenico. Il chiostro di San Domenico è uno dei complessi monastici più importanti di Sardegna e direi anche del Mediterraneo, intanto per suo stato di conservazione, perché il chiostro, grazie anche a diversi interventi e dispositivi di tutela sin dal 1897 ha potuto conservarsi e quindi rappresenta veramente una testimonianza, una testimonianza originaria di quella che era l'architettura gotico-aragonese che ha caratterizzato la Sardegna e il Mediterraneo aragonese. Cosa manca ancora per restituire a questo luogo tutta la sua bellezza? Siamo solo all'inizio di questo processo di conservazione e restauro, dobbiamo ancora mettere mano al braccio sud, che è un altro braccio di questo chiostro, sempre in architettura gotico-catalana, che ha assolutamente bisogno di restauro. Dobbiamo mettere mano alla Cappella di San Pietro e anche alla Chiesa, quindi diciamo che noi oggi abbiamo valutato con i colleghi tecnici di soprintendenza di avere una necessità di almeno 2 milioni di euro ancora, che stiamo cercando di intercettare con le risorse ministeriali, deputate proprio alla conservazione del patrimonio culturale. Il progetto di restauro su San Domenico è parte di un programma più ampio riguardante l'intero chiostro e che si fonda su una profonda conoscenza del monumento, della sua storia, dei materiali e delle problematiche per individuare le soluzioni migliori per la sua conservazione. Un progetto più generale della soprintendenza, ma soprattutto un progetto più generale del Ministero della Cultura, che con le aperture straordinarie vuole dare conto della propria attività nel campo della conservazione del patrimonio culturale. L'intenzione è esattamente questa, cioè di rendere accessibile anche la fase del lavoro di restauro. Il cantiere di restauro deve essere, nelle intenzioni del nostro Ministero, un cantiere aperto, perché dare conto del restauro significa dare conto dell'attività di cura che noi dobbiamo prestare al nostro patrimonio. Intanto a Quartu, una mostra sul barocco nell'ex convento dei Cappuccini. Chiuso il ciclo delle grandi mostri d'incisione con la presenza di opere di Goglia, l'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena ha deciso di fare un ulteriore salto di qualità con una proposta artistica di livello internazionale. Ed ecco che sulle pareti e le quinte dell'ex convento dei Cappuccini, ormai luogo riconosciuto come catalizzatore a livello regionale di grandi eventi artistico-culturali, per la prima volta infatti ospita alcuni dipinti del 600 barocco italiano e flamingo, Anton Van Dyck, Luca Giordano, il Guercino e Bernardo Struzzi. La prestigiosa mostra sarà fruibile fino all'8 gennaio. Dopo il ciclo delle grandi mostre sugli incisori da Goya, Piranesi e il Dürer, a Quartu arrivano cinque opere del periodo barocco, quello olandese e quello italiano, con varie sfaccettature, dal barocco bolognese con il Guercino, passando per quello genovese con Bernardo Struzzi e infine il grande Luca Giordano. Cinque opere che si intrecciano, tra l'altro gli autori stessi si sono intrecciati per tutta una serie di ragioni. Bernardo Struzzi è stato a Genova allievo, ha partecipato ai corsi e ha frequentato il Rubens. A sua volta, Rubens è stato maestro del Van Dyck, quel Van Dyck che arrivò a Genova per realizzare i suoi famosi ritratti. Questa mostra, oltre al barocco, abbiamo voluto giocare con i falsi d'autore, ecco perché il titolo è Autentici, appunto sono queste cinque opere, ed Epigoni, ovvero sono questi autori, artisti contemporanei, chiaramente viventi, che in un percorso loro precedente facevano i cosiddetti falsi d'autore, quelli certificati, quelli dove appunto hanno il patentino, questi artisti per entrare a Palazzo Barberini o anche al Museo Capodimonte, Villa Borghese, per realizzare appunto questi falsi d'autore. E qui giochiamo appunto sull'ambiguità e lo estendiamo anche al concetto che riguarda anche il mercato dell'arte, dove appunto i falsi hanno fatto anche un po' la storia dell'arte. Uno di questi autori è anche presente, invece con il suo nuovo percorso, un percorso come me ce l'ha da una trentina d'anni, ed è Francesco Stile, ed è un artista iperrealista, che è già venuto due volte qua in Sardegna, una quindicina d'anni fa. Ma il barocco perché si presta, si presta come dicevo prima, perché gli artisti, quelli che fanno i falsi d'autore, lavorano molto appunto sulle opere del barocco, e poi ci dà, è anche un periodo straordinario, che viene dopo il Rinascimento e c'è questa nuova forza, questa nuova vitalità nel mondo dell'arte, che appunto abbraccia quello che è il cosiddetto secolo d'oro, soprattutto in Olanda, in Spagna e in Italia. E quindi arricchisce, tra virgolette, diciamo, la proposta culturale e artistica qui del Comune di Quarto. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie a tutti.